puoi imparare anche tu una stupenda variante per la solita Sarch Super Barbary è fatta questa volta con una stupenda Queen Charge Recall lo vediamo insieme dopo la sigla signori benvenuti sul mio canale di Clash of Clans io sono Gcmo478 e oggi andremo a vedere una stupenda variante della solita Sarch Blimp Super Barbary questa volta andremo ad utilizzare una bella Queen Charge aiutato con la pozione Recall ma vediamo subito il caro Gabriel Cappa del clan Spartani come effettivamente ha messo in sesto questo stupendo attacco come avevamo detto signori si partirà da ore 6 con qualche Super Barbaro così da riuscire a creare un buon funnel per l'entrata della Queen ok? l'ottimo funnel appena creato sia ad ore 3 che ad ore 6 favorirà l'ingresso della Queen fino a Town Hall adesso si va ad aiutare con una furia così da abbattere il King in difesa e fra poco provvederà alla presa su Town Hall il Dolpi Arco X sta comunque continuando a togliere vita alla Queen che non è per nulla in ben serita grazie all'utilizzo della furia adesso riesce a sanare il castello del clan va a prendersi Town Hall abbatterà il castello del clan con la Queen e con l'utilizzo della veleno dopodiché procederà da ore 6 con il King un golem mice e una titana aiutata dal Warden per favorire l'ingresso nel quadrante successivo solo adesso va a richiamare la Queen così da supportare ancora di più il push degli eroi e soprattutto per entrare sempre più nel core del villaggio utilizza la champ da ore 9 insieme alla trivella che a mano a mano si va ad aiutare con Super Barbary così da favorire sempre più la distruzione del villaggio utilizza un'altra furia per velocizzare per velocizzare il push e una grandissima e bellissima salto che adesso darà l'opportunità alle truppe di arrivare sempre più avanti nella demolizione specialmente della Sperl Tower con la veleno abbiamo la trivella che continua ad indebolire e rallentare le difese il King continua grazie all'utilizzo della Fenice nella sua distruzione e adesso andrà ad utilizzare l'abilità della Queen per abbattere le ultime difese aiutato anche dall'abilità della Cem signori, bellissimo questo attacco fatto da Gabriel K per il clan Spartani che ci dalizia con questa bellissima tecnica Queen Charge 3 Goal Super Barbary complimenti a Gabriel K ed è tutto per te il nostro BOO BABY ancora complimenti al caro Gabriel K che ci ha fatto vedere un po' delle sue skill e ragazzi se questo video vi è piaciuto lasciate un like se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina così da rimanere sempre aggiornati sugli ultimi video mi raccomando commentate e fatemi sapere cosa ne pensate di questo attacco per oggi è tutto ci vediamo alla prossima ciao belli ciao